Graffiante, ironico, satirico e con tanta voglia di raccontarsi e raccontare pregi e difetti di questa nostra Italia. Francesco Baccini ha festeggiato i suoi vent'anni di carriera alla masseria qui su Tdeus presentando il suo libro biografico Ti presto un po' della mia vita ed il suo nuovo CD prodotto da Caterina Caselli, Ci devi fare un gol. Sono partito in quinta perché col primo album vissi il premio Tenko, quindi mi conquistai la fascia della critica del pubblico più sofisticato. Poi col secondo, come la famosa Meta Gillette che mi uso, arriva il grande pubblico con il pianoforte nel mio Ford, quindi sotto questo sole, Donne di Modena, qua qua quando. Poi ho deciso di complicarmi subito la vita passando a nomi e cognomi come terzo album dove qualche problemino, quel disco me lo diede, il primo singolo si chiamava Giulia Andreotti. E lì ti hanno spezzato le gambe. Ha tentato di spezzarmi le gambine ma sono ancora qua. La seconda parte della mia carriera anche a prodare al cinema, infatti in questi ultimi tre anni mi sono dedicato più al cinema, inteso proprio come atto, come recitazione. Ho fatto un paio di film, chiaramente due indipendenti, uno Zoe che sta girando ancora adesso i festival e purtroppo non ha ancora trovato distribuzione e un corto che si trovano fuori. Che proprio in questi giorni mi hanno detto che aveva vinto un festival dove mi premierà Ruth Grauer, il famoso ho visto cose che voi umani, proprio i primi di ottobre saranno premiati a Milano come attore migliore del festival. E soprattutto mi diverto a scrivere canzoni, mi diverto a stare su un palco, non mi immaginerai altro nella mia vita.